Ciao sono Gianluca Scala e in questo video parleremo degli spifferi che possiamo avere nelle case normalmente. La prima cosa che si potrebbe fare è chiamare un professionista oppure per sapere a che punto abbiamo il nostro serramento è togliendo una cornice laterale e guardare se era stato schiumato normalmente lo si capisce toccandola perché se vibra 99 su 100 la schiuma non c'è. Nel prossimo video vedremo anche come togliere il problema della soglia. A dopo ciao